Gaudenzio Parenti direttore generale di ANCIP a cui abbiamo chiesto questa chiacchierata questa intervista partendo dalla lettera di un paio di giorni fa si è chiusa la scorsa settimana appunto con questa notizia di una lettera inviata al governo per diciamo così fare le richieste su alcuni emendamenti che voi vi aspettavate e che non sono stati invece che non sono arrivati in materia di lavoro portuale ci può fare un piccolo preambolo su questa vicenda e poi spiegarci che cosa avete chiesto. Allora innanzitutto buongiorno a tutti e grazie grazie per l'invito sempre ben accetto. Allora dobbiamo partire da qualche anno fa perché la norma diciamo sui cosiddetto lavoro usurante è qualcosa che abbiamo portato avanti come cluster portuale da tempo non trovando però purtroppo mai accoglimento nella modifica della norma appunto degli lavori cosiddetti usuranti. Nel corso di questo anno anche durante l'audizione in commissione lavoro dell'onorevole parte del risetto per quanto concerne il disegno di legge sul lavoro quello che diciamo è incardinato attualmente in commissione lavoro abbiamo presentato delle istanze congiunte con l'altra associazione del cluster portuale per far entrare alcune tipologie alcune mansioni del lavoro portuale all'interno del cosiddetto i lavori usuranti e non stiamo parlando di tante unità anzi noi dobbiamo innanzitutto partire dal principio che i lavoratori nei porti lavoratori a 360 gradi nei porti sono circa 15.000 e operativi sono circa 8.000. Di questi 8.000 un 75% è under 54 anni, un 10% tra i 55 e i 60 anni e un 15% che in teoria potrebbe essere diciamo così accompagnato alla giusta quiescenza perché sappiamo tutti quanto sia gravoso ed usurante appunto entrando proprio nel termine concreto il lavoro portuale. Ma noi proprio perché abbiamo compreso che c'erano delle difficoltà tecniche abbiamo chiesto soltanto di far entrare la mansione di gluista dell'addetto rizzaggio e del rizzaggio e del lavoratore poi valente stiamo parlando circa di 2.000 unità e facendo i calcoli anche e ovviamente a spanne e con il fondo eh dedicato al anticipo pensionistico per quanto riguarda il lavoro usurante ci potevano eh rientrare. Certo poi ci sarebbe dovuto essere una delle riunioni molto più approfondite ed un'analisi una cosiddetta due dirigence usiamo un termine appropriato una due dirigence proprio per vedere se nel corso degli anni sarebbe diciamo così stata coperta la la necessità economica appunto per far entrare queste tipologie, queste manzioni del lavoro portuale in quelle cosiddette eh usuranti. Eh ringraziamo eh innanzitutto mi preme ringraziare le onorevoli e l'onorevole in questo caso eh l'onorevole Maria Maria Grazia Filia, l'onorevole Valentino Dio, l'onorevole Domenico Fuggiore che hanno presentato gli emendamenti quindi hanno accorto le nostre stanze ci hanno ascoltato oltre al lavoro usurante noi avevamo chiesto delle modifiche tecniche a saldo invariato di bilancio e questo è bene sottolineato a saldo invariato di bilancio quindi che non comportava eh comportava ulteriore eh sborso economico da parte dello Stato delle modifiche tecniche al cosiddetto fondo di accompagnamento all'esito per il lavoratore dei porti e questa ehm queste modifiche sono eh sono essenzialmente basate su delle interlocuzioni che abbiamo avuto con il ministero del lavoro con il ministero del lavoro e delle politiche sociali il ministero dell'economia e finanze perché poi come dice attualmente la norma che è vigente in vigore da circa tre anni si sarebbe dovuta divenire ad un decreto interministeriale per eh cominciare a spendere la faccio veramente in maniera semplice per cominciare a spendere ciò che le imprese i lavoratori e l'autorità del sistema portuale stanno accantonando da anni cioè ci sono delle ingenti risorse economiche accantonate che non possono essere utilizzate per dare via per concretizzare questa norma voluta dal legislatore su ovviamente su istanza del cluster portuale di accompagnamento all'esito. Sapevamo che magari quello del lavoro usurante dell'inserimento di alcune tipologie, alcune mansioni eh del lavoro portuale in quello usurante avrebbe trovato delle difficoltà. Non pensavamo invece che la modifica tecnica e quindi non economica del fondo di accompagnamento all'esito avrebbe avuto queste problematiche. Quindi per capire c'è un fondo già riempito dai lavoratori e chiedo anche dalla DSP? C'è questo fondo? Assolutamente sì, assolutamente sì perché questo fondo è stato creato per i lavoratori delle imprese articolo 16, per i lavoratori per i termini all'articolo 18, per i lavoratori dell'autorità del sistema portuale e anche per quelle società di servizi di interesse economico generale, quindi stiamo parlando di stazioni passeggeri o anche sieche che operano dentro i porti che eh applicano il contratto colettivo nazionale dei porti. L'articolo 17, quindi le i somministratori di monopropa, semplificando le compagnie portuali, sono esclusi da questo fondo perché loro, visto che operano in regime di monopolio legale eh a seguito di un mando di gara che eh viene aggiudicato hanno il famoso fondo articolo 17,15 bis. Quindi sarebbe stato un doppione e poi ci sarebbe stata una sovrapposizione anche di eh stratificazione normativa che avrebbe potuto creare dei problemi. Quindi il fondo riguarda tutti i lavoratori dei porti tranne eh quelli degli articoli 17. Per ovvi motivi giuridici. Quindi dicevamo c'è questo fondo, i soldi ci sono, mancava diciamo solo la eh la parte che ha detto tecnico, quindi eh la normativa che regolava capisco come erogare questo fondo, si è detto di no. Prossimo tavolo, prossima partita, quando sarà? Eh guarda eh devo essere sincero eh ci sono state delle telefonate con gli onorevoli che hanno presentato questi emendamenti, ma non solo con loro, anche con la commissione lavoro, con il presidente della commissione dei trasporti eh diciamo la la politica sta sul pezzo ecco. Anche il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ringrazio sempre nella persona della dottoressa Di Matteo, nella persona del dottor Donato Rigori, dice il ministro, tutta la struttura ministeriale è sul pezzo per quanto riguarda questo questo fondo. Anche perché noi eh fumo convocati se non vado se non ricordo male circa due mesi fa proprio su queste tematiche a a corollario uso questo termine non proprio a corollario del rinnovo del contratto colettivo nazionale dei porti ed è un tema sentito anche dagli amici del sindacato, ho visto anche delle uscite del del sindacato che eh diciamo così eh si faceva parte attiva verso la politica istituzionale affinché almeno quello delle le modifiche tecniche del fondo di accompagnamento all'esodo venissero accorti. Mi conosci, sono una persona che dice anche quello che pensa. Onestamente non so cosa sia successo, presumo che sia stato uno dei tanti purtroppo cortocircuiti istituzionali che avvengono durante questi questi disegni di legge. Ma sono abbastanza positivo, la penso abbastanza in maniera positiva affinché si possa raggiungere diciamo così, si possa portare a compimento perlomeno questo del di questi emendamenti del fondo di accompagnamento all'esodo che ripeto sono stati redatti sulla base delle indicazioni che abbiamo avuto.